Musica Il titolo di Miss Sud Italia Ed un gruppo un po' più piccolo di ragazze che sono anche più piccine d'età Perché sono le ragazze minorenni dai 14 anni fino ai 17 Che aspirano al concorso ragazza in jeans Come potete vedere sul nostro bellissimo manifesto Ci sono le vincitrici del concorso nazionale della passata Musica Il posto a Villa Mare Villa Mare a Sapri Meraviglioso posto anche lì Quindi vi aspettiamo numerosi Le ragazze sono pronte Di questa tappa Eboli 2012 Vi ricordo ragazze che a parte i soliti titoli Fotogenia, Televolto C'è anche la Miss Eboli Che leggeremo questa sera Quindi mi raccomando Ora state belle toste Perché questo è un po' più piccolo di ragazze